cinturone germania est anni 80 80 90 cinturone in cordura un grigio grigio scuro fibbia in metallo in lega metallica verniciata con grigio verde in grigio anti riflettente il classico riconoscibilissimo simbolo a sbalzo della germania est aggancio semplicissimo materiale molto rudimentale semplice spartano aggancio con fibbia regolabile sempre sul retro tramite un doppio passaggio del cinturone c'è questa parte qui che ha movibile che lo fa sì che la fibbia venga tirata da questa parte e regolata raggiungendo la distanza desiderata materiale nuovo molto ben conservato di magazzino originale germania est molto solido notare anche lo spessore anche l'aggancio è metallico rivettato 10 15 15 15 16 18 21 21 20 23 23 22 24